Lesione mio tendine e muscolare degli ischio crurali. Può bastare questo scuro referto medico a smorzare l'entusiasmo della super Roma in fuga? In parte sì, considerato che il bollettino riguarda Francesco Totti e il rischio di un suo stop di un mese. Il numero 10, costretto a uscire venerdì sera per il riacutizzarsi del problema muscolare con cui convive da tempo, sarà ricontrollato tra dieci giorni. Di sicuro salterà il trittico di impegni della prossima settimana. Probabile un rientro dopo la sosta di novembre. Una vera e propria tegola sulla testa di Rudy Garcia, che trattiene il fiato anche riguardo le condizioni di Cervigno, da verificare nelle prossime ore. Da Trigoria però trapela ottimismo sul pronto recupero del Livoriano. Sono questi gli unici affanni di un periodo di splendore mai vissuto in casa giallorossa. Ormai è caccia aperta ai pochi record non ancora battuti da una squadra che sembra incapace di prendere gol e perdere punti. La classifica è fantascientifica, con le inseguitrici staccate già di cinque punti. La capolista se ne va. È il coro curvarolo che rimbomba nello spogliatoio romanista. E anche i bookmakers sono costretti ad abbassare settimana dopo settimana la quota scudetto di De Rossi e compagni, giunta ormai quasi a quella juventina. E l'entusiasmo della gente non ha più confini. Se ne è accorto García, secondo il quale la Roma per i tifosi è come una moglie o una religione. Se ne è accorto anche il presidente Pallotta, che non è ripartito subito per gli States dopo la grande vittoria sul Napoli, sia per accelerare sulla questione stadio, sia per godersi il momento magico. Anzi, trattandosi della Roma, magico.